Ti faccio subito una domanda delle domande. Il tredicesimo chi è? Mario Draghi? Prossimo libro? Guarda, chi legge questo libro impara che non si possono fare previsioni del Presidente della Repubblica. Tutto succede all'ultimo minuto. Hai letto oggi Folli che dice che è talmente sfarinata e litigiosa questa politica che rischia di non avere nemmeno una regia per arrivarci in un modo razionale a questo appuntamento che è sempre difficilissimo. L'unica novità di quest'anno è che nessuno schieramento ce la fa da solo. Teoricamente potrebbe farcela il centrodestra. C'ha 466 voti compresi consigli regionali con qualche Francia, Mettirenzi, 5 Stelle. Però questa è fantascienza. Io credo che ci siano le condizioni per fare un Presidente condiviso realmente tra le due parti. E quindi quest'anno non è una scelta ideale ma forse una scelta di necessità. Scusami, non sfuggire alla domanda delle domande. Perché la Lega lancia rapidamente Draghi al Quirinale? Perché è l'unica che ha interesse a levarsi da torno. Pertanto perché è una candidatura di sicuro prestigio e poi perché spera che Draghi, andato al Quirinale, sciolga le Camere. Quindi libera Palazzo Chigi, li fa votare e si preparano a combattere. Un po' era la tesi di Giorgetti del mio libro autunnale, perché in Italia aveva Mussolini. Giorgetti diceva, confermiamo Mattarella, facciamo sciogliere le Camere subito e quindi adeguiamo il Parlamento. Questo è un Parlamento illegittimo, tra virgolette, visto che c'è una legge costituzionale. Dovrebbero essere di meno quelli che leggono il nuovo Presidente. E quindi invece lo leggeranno questi qua, però dice allora, ripetiamoci in ordine con la Costituzione e sciogliamo subito le Camere. Alessandra Gomesin